Da Avella a Villongo, in provincia di Bergamo per insegnare, è ora calata nella realtà italiana più colpita dal coronavirus. È la testimonianza di Maria Laura, docente all'Istituto Comprensivo Locale, che da 11 anni vive nel centro Lombardo. Nel suo racconto emergono preoccupazione e desiderio di riabbracciare i propri cari, ma anche il grande senso di responsabilità che l'ha fatta desistere dal tornare in Irpinia, in piena emergenza sanitaria, rischiando a sua insaputa di diventare veicolo di contagio. In questo periodo la situazione è veramente molto triste, si sentono ambulanze dalla mattina alla sera e purtroppo molti alunni e molti colleghi hanno parenti da piangere, quindi vi dico che qua la situazione è veramente tragica. In questo periodo sto lavorando da casa, con enormi difficoltà anche da questo punto di vista. All'inizio la tentazione di scendere giù al mio paese è stata molto forte, però ne ho fatto una questione di coscienza. Io non sapevo di stare bene e di conseguenza non potevo andare ad Avella e creare il panico nel mio paese o portare il virus a mia mamma. Quindi di conseguenza ho deciso di restare qui, seppur sola. Ora l'unica cosa che io spero è che al sud e in tutte le altre città italiane non si ripeta la stessa situazione che si è creata qui a Bergamo, perché vi ripeto, qui è veramente triste. L'unica cosa che spero è che tutto questo finisca presto e che io possa ritornare anche brevemente in Campania per vedere i miei cari posti e per apprezzare i miei cari. E soprattutto non vedo l'ora di tornare a scuola dai miei cari ragazzi. Che in questo momento bacio e abbraccio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.